La Fondazione Spaventa di Bomba realizza un evento per il secondo anno consecutivo, il premio intitolato proprio a questi studiosi originari di Bomba e notoriamente storicamente riconosciuti a livello mondiale. Domenico Gentile è il presidente di questa fondazione che ci illustra un po' le finalità di questo premio che vivrà il suo momento culminante il prossimo sabato con il riconoscimento ad un'importante personalità che conosce molto bene la storia degli Spaventa. Sì, in effetti la Fondazione Bertrando e Silvio Spaventa si propone di diffondere il pensiero e la conoscenza del pensiero e le opere dei fratelli Bertrando e Silvio Spaventa che sono dei patrioti italiani, quindi meridionali, nati a Bomba che hanno contribuito fortemente all'unità d'Italia e sono dei personaggi del risorgimento italiano. Bertrando è stato un filosofo che ha creato la cornice teorica dell'unità d'Italia attraverso l'egalismo e invece Silvio è stato un politico che ha lottato contro i Borboni, ma non per i Borboni, ma per eliminare gli stati staterelli pre-risorgimentali e creare un'unica nazione unitaria e è stato anche in carcere. Dopo l'unità d'Italia è divenuto un uomo politico importante ed è entrato nei primi gabinetti del Regno d'Italia, è stato gabinetti di governo ed è stato anche ministro più volte. Entrambi si sono riferiti ai valori del bene comune e dell'onestà e proprietà delle classi dirigenti. Ed è proprio questo l'oggetto del nostro premio. Vogliamo premiare sia personalità politiche che si ispirano al bene comune dell'Italia, degli italiani a valorizzare i principi della nazione italiana e sia anche premiare degli studiosi che abbiano approfondito gli studi su Silvio e Bertrando. Quest'anno, dicevamo, non so se ci può anticipare il nome, ma è stato anche fatto precedentemente, sarà assegnato al professor Marotta. Sì, in effetti l'avvocato Marotta di Napoli è un illustre studioso dei filosofi dell'epoca risorgimentale, quindi a cominciare da Filangieri, passare per gli Spaventa e arrivare anche a Benedetto Croce. Sono tutti filosofi della scuola napoletana a cui si ispirra il centro di studi filosofici fondato proprio da Marotta che ha sede a Napoli ed è stato promotore di importanti studi insieme con Elena Croce che era una discendente di Croce e anche nipote, pronipote di Silvio e Bertrando i quali a loro volta erano zii di Benedetto Croce. Quindi c'è, diciamo, un discorso, come sapete, anche Croce e Abruzzese di Pesca Seroli e quindi non soltanto un discorso di filosofia, di scuola filosofica napoletana, ma anche abruzzese. E l'avvocato Marotta ha pubblicato quasi tutti i testi, anzi tutti i testi, a suo tempo scritti da Silvio e da Bertrando. Silvio, prima che venisse, che accadessero i Borboni, pubblicò un importante giornale, si chiamava Il Nazionale in cui proprio promuoveva l'idea nazionale dell'Italia in contrapposizione con i piccoli stati dell'epoca. L'avvocato Marotta è stato anche designato cittadino bombese e onorario ed è una personalità di grande rilievo a livello culturale. Il sindaco di Bomba Donato Di Santo ha sempre creduto a questa fondazione Spaventa, tanto è vero che l'anno scorso c'è stata la prima edizione del premio, che quest'anno viene proseguito e speriamo anche negli anni a venire possa diventare una manifestazione di rilevanza internazionale. Il Comune di Bomba, come dicevi, è stato sempre partecipe, convinto, sostenitore, promotore della fondazione Spaventa perché è giusto che Bomba si qualifichi soprattutto per quello che ha, ossia sul fatto che i nostri concittadini, i fratelli Spaventa, possano nel tempo continuare ad essere vissuti attraverso la divulgazione del pensiero e delle opere. In questa occasione, sabato 4 luglio alle 11, presso la sala del Museo Etnografico a Bomba, ci sarà un convegno con premiazione all'Avvocato Marotta perché lui si è distinto per la sua passione, la sua competenza verso ciò che è stato la vita dei fratelli Spaventa. Da anni ha collaborato con il Comune di Bomba e con quanti di Bomba lo hanno chiamato in causa, tant'è che nel 1996 il Consiglio Comunale di allora, all'unanimità, gli ha riconosciuto la cittadinanza onoraria bombese, con un titolo speciale quale ambasciatore dei fratelli Spaventa. Ecco perché oggi richiamarlo in causa, consegnandogli questo premio, gli diamo il giusto tributo. Ovviamente per Bomba è motivo di orgoglio portare avanti queste iniziative perché dopo il premio Spaventa dato l'anno scorso al presidente Azzerio Ciampi, oggi un giusto riconoscimento va all'Avvocato Marotta perché è stato sempre vicino alla causa bombese.